Batman, un supereroe, un vigilante, un uomo, che nonostante venga continuamente esasperato dai suoi super criminali, non lo trova un motivo valido per ucciderli. Wabalabadabab e bentornati su Nomamamazzo! Oggi è il Batman Day, si celebra l'anniversario di Batman, dell'uomo pipistrello, ed è il secondo anniversario italiano in cui la DC Comics è gestita dalla Panini. E la Panini per quest'anno ha voluto pubblicare Batman il Mondo, volume cartonato, fantastico, a mio modesto parere, appena 12 euro e lo trovate in edicola, volume di cui io non conoscevo molto ma ultimamente sono un po' arrugginito, ammetto, sul fumetto. Ringrazio tantissimo che ne abbia parlato, per esempio Victor Laszlo, e ringrazio anche Luca DJ che mi ha detto che potevo tranquillamente trovarlo in edicola, quindi se siete interessati l'ho trovato in edicola. Ma che cos'è Batman il Mondo? Semplicemente è una raccolta di 14 storie, brevi ovviamente, parliamo comunque di 184 pagine totali, che racchiudono appunto 14 storie scritte da autori di diverse nazioni, dove il protagonista appunto è Batman, che opera in suddette nazioni. Il tomo si apre con gli Stati Uniti, ovviamente con Brian Azzarello e Lee Bermejo, scusate la pronuncia ma l'ho sempre letto e non l'ho mai pronunciato. Comunque sono un'accoppiata fantastica che potreste aver già conosciuto dal Joker di Azzarello. Se vi faccio vedere questa inquadratura sicuramente riconoscete lo stile. Autore e disegnatore vanno spesso a braccetto, quindi qua troverete sia la mente che il braccio disegnante del Joker di Azzarello. E quindi si apre ovviamente con gli Stati Uniti, per poi passare alla Francia, alla Spagna, all'Italia, di cui poi parliamo ovviamente, alla Germania, Repubblica Ceca, Russia, Turchia, Polonia, Messico, Brasile, Corea del Sud, Cina e Giappone, infine. Alcune storie vi sembreranno più lunghe delle altre, ma è come è portata lo svolgimento, diciamo, della narrazione. Tutte le storie sono molto, molto diverse tra loro. Mi è piaciuto che in nessuna storia ho trovato degli stereotipi locali, né nella nostra, ma neanche nelle altre nazioni. Mi è piaciuto molto, anzi, scoprire cose che non conoscevo di determinate nazioni, quindi si è andato proprio nello specifico, ma d'altronde è questo il bello di dare in mano un lavoro a un autore che ci vive in quella nazione, perché ti può davvero tirar fuori il meglio, ti può tirar fuori la curiosità locale che il turista non conosce. È un po' come quando sei in vacanza e chiedi alle persone del luogo dove andare a mangiare e non vai nei posti turistici. Ecco, questo è l'equivalente fumettistico di quella sensazione. Ovviamente ci sono storie che ho apprezzato di più, ci sono storie che ho apprezzato di meno. Volevo parlarvi di qualche nazione in particolare che mi aveva colpito oltre alla nostra, ma devo dire che è stato un bel crescendo, che mi ha, diciamo, mi ha dato una bella sensazione in generale. Non ci sono stati dei grossi picchi, quindi adesso vado un attimo a riprendere un paio di storie, è giusto per darvi la mia sensazione, però ecco, senza nulla togliere alle altre, perché davvero sono tutte a un livello altissimo. Quello degli Stati Uniti è un messaggio al sottobosco criminale, che ci dà fondamentalmente un riassunto di ciò che è Batman, di ciò che rappresenta Batman, ed è disegnato egregiamente. Si passa alla Francia, dove fondamentalmente si omaggia la storia d'amore tra Batman e Catwoman, e non mancano citazioni di altri personaggi celebri della DC Comics. In Spagna, invece, si punta su ciò che è la Spagna per un americano, ovvero un luogo di vacanza, ma ci mostra come una persona staccanovista, diciamo, come Bruce Wayne, come Batman, non riesce a trovare sollievo nella vacanza, ma solo quando è al lavoro, in questo caso quando è Batman. La Germania ci mostra un criminale gotamita all'estero, vediamo niente po' di meno che il Joker che si occupa della Germania, con un paio di strizzate d'occhio politiche, all'andamento politico appunto dell'America, presumo dell'America di Trump, e anche come invece la Germania sia così seria da aver bisogno di un clown, clown che gli Stati Uniti già avevano in quel momento. Un po' fuori character il Joker per le sue intenzioni, ma se si va a scavare fino alla fine di questo fumetto, forse il Joker cercava semplicemente di creare un altro Joker oltreoceano, fateci caso. Nella Repubblica Ceca ho rivissuto il piacere di vedere Praga, e essendoci stato, è stato fantastico vedere Batman calpestare queste strade. La storia attinge un po' alla parte esoterica, diciamo, della città, una storia molto breve. Nella Russia invece c'è quasi una storia metatestuale, dove non si capisce se il protagonista, che è un autore di fumetti, stia parlando della sua esperienza personale o sia ad ambientazione fantastica, ovvero dove Batman esiste davvero. C'è una via di mezzo, perché vediamo che il protagonista invecchia col tempo, ma Batman resta giovane. Ma ci sta perché Batman è un simbolo, anche, diciamo, nella finzione letteraria. Molto, molto bella, molto intimista questa storia. Nella Turchia ho imparato cose che non conoscevo, mi sono immerso proprio nella cultura, nella tradizione turca, e l'autore ha saputo mescolare la vera storia turca con la finta storia gotamita, inserendo, diciamo, un nemico recente dal punto di vista editoriale per la storia di Batman, ma che ha una storia centenaria nella finzione della storia di Gotham. E qua hanno voluto introdurre qualcosa di simile anche nella Turchia. Mi è piaciuto davvero tanto questa contaminazione. In Polonia un'altra storia breve dove ci si focalizza sulla sicurezza della città di Varsavia, una sicurezza che fa gola persino a Bruce Wayne, a Batman, e vuole collaborare per poter implementare Gotham con tutta questa tecnologia. Si va poi a Città del Messico, dove anche qui la storia prende delle tinte quasi esoteriche, quasi leggendarie, e francamente sono contento perché solitamente con il Messico si parla sempre di cartelli di droga, eccetera, però dal momento che Gotham non ha nulla da invidiare al Messico avremmo visto un'ennesima storia di Batman che combatte degli spacciatori, un cartello di droga. Qua invece c'è qualcosa di più tradizionale, di più legato alla cultura locale, che appunto non conoscevo e che ho scoperto grazie a questo fumetto. Quindi anche sul Messico si va proprio a imparare qualcosa. Inoltre mi viene da dire che è la storia disegnata meglio insieme a quella di Bermejo, questa qui messicana, è quella più fotografica. La storia del Brasile è anch'essa una storia generale, dove si parla in generale della criminalità brasiliana, del perché il Brasile non cresce, non fiorisce, di come Batman e Bruce Wayne cercano contemporaneamente di contrastare la criminalità, la corruzione che c'è sulle alte sfere e anche cercano di bloccare i piccoli crimini nei bassi fondi, dati comunque sempre dalla disperazione e dalla povertà. Una storia, devo dire, purtroppo, che è ambientata in Brasile, ma potrebbe benissimo essere ambientata anche in Italia, specie sulla parte della corruzione. Sugli appalti e sugli investimenti che non finiscono mai, perché i lavori appunto vengono protratti a lungo e non si sa dove vanno a finire i soldi. Una storia dall'altro capo dell'oceano che ho sentito terribilmente vicina. Si va poi in Asia e c'è il trittico Corea, Cina e Giappone, Corea del Sud ovviamente, dove si nota proprio anche lo stile di scrittura molto più veloce rispetto a quanto siamo abituati noi. Vi sembrerà quasi che saltano delle parti per arrivare alla conclusione. È proprio uno stile di scrittura tipicamente asiatico, dove appunto l'asiatico ha bisogno di meno cose per arrivare alla conclusione, come insegnava una volta Jackie Chan quando parlava del montaggio nei suoi film. Delle tre storie ho amato di più quella coreana, come disegni invece mi è piaciuta di più quella cinese, perché mostrano un costume di Batman davvero figo, che ricorda molto il Batman Ninja che trovate su Netflix, anche se quello è inventato in Giappone, però diciamo mi piace la rivisitazione del costume secondo la cultura locale. Invece come storia mi è sembrato un po' troppo attaccata al denaro. Dulcis in fundo, il Giappone con i suoi manga. Ovviamente mi aspettavo quasi un fumetto da leggere da destra verso sinistra, ma dopo 13 storie lette alla maniera occidentale mi sarebbe sembrato straniante, quindi va benissimo così. Il classico bianco e nero dei manga. Mi aspettavo un manga, o meglio, mi aspettavo sì un fumetto in bianco e nero ma moderno, invece è ambientato proprio nel Giappone feudale, così a occhio. Anche qui Batman ha un tipico vestito da samurai, come appunto il Batman Ninja di cui ho parlato prima, ed è una storia appunto di altri tempi, ma ci sta anche variare rispetto a tutte le altre storie. Mi sono voluto tenere l'Italia per la fine, anche se è la quarta storia che trovate nel volume. Quello che ho apprezzato dell'Italia, come sempre, come ho detto anche prima, oltre al fatto che non c'è uno stereotipo fortunatamente, è il fatto che è l'unica storia dove c'è un supercriminale locale, dove c'è... dove dimostra tranquillamente che anche l'Italia ha i suoi supercriminali in costume, in questo caso Janus, ispirato appunto al Giano Bifronte. E vediamo che Batman ci è molto legato, perché è un ragazzo che ha subito... che ha quasi subito lo stesso fatto di Bruce Wayne quando era piccolo, ed è stato appunto salvato da Batman, ma purtroppo dove Batman ha preso, ha intrapreso una strada da vigilante, da supereroe, qua invece Janus ha preso una strada vendicativa, dove vuole appunto riparare i torti secondo il suo personalissimo metro di giudizio. Una storia molto bella, molto attenta anche proprio alla storia editoriale di Batman. Vediamo che nel presente ha la classica divisa con il pepistrello nero contornato dal giallo, o solo contornato dal giallo. Vediamo che in passato, quando Janus, che si chiama Cesare, era un bambino, aveva la divisa diversa, quindi c'è proprio tutta questa attenzione ai dettagli che mi è piaciuta davvero tanto. Ovviamente le forze dell'ordine che aiutano Batman sono carabinieri, si vede proprio lo stemma sul cappello, che è quello dell'arma dei carabinieri, ci sta. E chissà che questo personaggio particolare non venga magari sfruttato anche in prossime collaborazioni italo-americane con Batman. Sarebbe molto carino. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video. Vi dico che se mi seguite su Instagram, stasera io sarò a un evento, sempre per il Batman Day, e farò magari delle piccole stories in cui vedrete magari dei cosplay a tema Batman e in generale dei cosplay, perché è comunque entrata libera da questo punto di vista, però sarà dedicato al Batman Day. Arrivederci ancora e buon weekend!